Il primo giorno dell'estate a Cartoceto è coinciso con l'apertura e l'inaugurazione di una bella area di gioco e di sport, tra cui calcio a 5, pallavolo, basket, un'area cosiddetta polivalente nel capoluogo di Cartoceto, cofinanziata dal CONI nazionale tra i primi 30 progetti in Italia. E siamo ovviamente molto soddisfatti perché è un risultato che garantisce innanzitutto il traguardo di un ulteriore obiettivo che ci eravamo dati come amministrazione. E al tempo stesso siamo ovviamente soddisfatti perché lasciamo alla cittadinanza, in questo caso al territorio del capoluogo di Cartoceto, un segno e un luogo soprattutto di socialità, di aggregazione in modo particolare dedicata ai giovani, ma soprattutto trattasi della seconda tranche di intervento e di riqualificazione di questa vecchia area polivalente che ricomprendeva sia un'ex pista di patinaggio e un'ex autorimessa comunale che speriamo vivamente attraverso dei finanziamenti europei per il tramite della Regione Marche di proseguire attraverso la terza tranche. L'esito dell'istruttoria dovrebbe all'incirca essere pubblicata da parte della Regione nel mese di settembre. Ci consentirà anche di riqualificare l'ex autorimessa comunale e di adibirla ad uno spazio anche in questo caso polifunzionale tra spazi dedicati ai giovani, spazi dedicati ai bambini, in questo caso ovviamente di gioco, spazi di studi per i ragazzi più grandi e invece una parte di questo stabile sarà invece interamente dedicato al corpo bandistico di Cartoceto da un lato e al tempo stesso ad una sala prove musicali oltre che al piano terra avere la possibilità di ricavare un'ampia sala polifunzionale poi eventualmente nella quale organizzare incontri, dibattiti, conferenze e quant'altro quindi sicuramente un bel risultato di riqualificazione che dona ulteriore vivacità e dinamismo al capoluogo di Cartoceto.